È stato convocato per lunedì 8 ottobre l'incontro fra comune, sindacati ed amministratore di Alba per discutere dei nuovi contratti di servizio. La convocazione del tavolo di confronto è arrivata in seguito alla richiesta avanzata dalle sigle sindacali dopo la proroga dei vecchi contratti di servizio di Alba per quel che concerne igiene urbana e manutenzione. La proroga fino al 31 dicembre per tali contratti di servizio è stata approvata dall'Aggiunta Municipale nei giorni scorsi al fine di garantire la prosecuzione dei servizi in attesa che si completi l'iter di stipula dei nuovi contratti che dovranno essere vagliati dal Consiglio Comunale e che sono stati richiesti a più riprese dai sindacati.